Come preannunciato, non appena conosciuta l'ordinanza del Presidente della Regione, in materia di contrasto al Covid, ho chiesto la convocazione del Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura e lì ho sottoposto un'ipotesi di ordinanza che ha trovato il consenso del Comitato e che provvederò a firmare nelle prossime ore, che prevede la ripresa del divieto di stazionamento nelle zone già individuate del Centro Storico e del quartiere Politiama e Libertà dalle ore 11 alle ore 22 per cercare di ridurre al massimo i pericoli di assembramento. Al tempo stesso un invito forte alla collaborazione da parte dei cittadini e da parte dei operatori economici, ricordando loro le prescrizioni di portare a conoscenza le norme sulla sicurezza, al tempo stesso di garantire all'interno dei locali di rispetto di queste norme, a vantaggio dei cittadini e anche delle attività commerciali. Ho anche sospeso ogni decisione sugli orari di lavoro delle categorie produttive, rinviando ad un incontro con le categorie produttive già fissate per lunedì pomeriggio, in modo da poter eventualmente rimodulare gli orari di accesso a esercizi commerciali al fine di evitare l'arressa in alcune ore di punta. Tutto questo con un invito forte a tutti al massimo di prudenza se non vogliamo distruggere la salute, attentare alla vita e distruggere le attività economiche.